Salve a tutti ragazzi e buon inizio 2018, mamma mia sembrano passati pochi giorni dall'anno scorso e come dissi in un vlog dell'altro anno saremmo tornati sul secondo capitolo di Mass Effect dopo un sacco di tempo e quindi senza perderci in chiacchiere bando alle ciance ciancio alle pance, Mass Effect 2 e oggi iniziamo la nostra nuova avventura, nuova partita, importiamo il personaggio da me 1, eccolo qua, importa personaggio, vediamo vediamo vediamo, ah questo sarà una serie walkthrough quindi ci saranno pochissimi tagli e i video saranno integrali quindi pochissimi tagli nel senso devo attraversare un corridore, non succede nulla, taglio e faccio vedere direttamente dove sono arrivato, allora giocheremo in modalità folle a questo giro, folle, dunque sottotitoli sì, potrei anche levarli però a volte la musica è più forte dell'audio quindi sottotitoli lasciamoli, poi se vi do a noi scrivetemelo nei commenti che poi li tolgo, utilizzabilità della squadra certo, altro salvataggio ovviamente, continua nome, ah già c'è il repilogo di tutto ciò che era successo nello scorso gioco quindi se vi siete persi i miei walkthrough del primo capitolo ecco cosa ho fatto, essendo un gioco piuttosto lungo che contava 300 missioni secondarie mi sono concentrato esclusivamente sulla storia principale altrimenti venivano fuori troppi episodi e man mano che c'erano le situazioni nuove, nuove scoperte eccetera le spiegavo direttamente io in gaming. Allora, l'avevo concluso a livello 38, specializzazione militare soldato perché nel primo Mass Effect è forse la classe migliore perché abbraccia tutte le armi, profilo psicologico eroe, il comandante Shepard ha seguito la via dell'eroe, io se vi ricordate avevo preso la strada del Renegade ma poi per sbloccare nuovi dialoghi e far vedere soprattutto che Saren si può pentire, infatti alla fine si è sparato, dovevo acquisire abbastanza punti eroe e infatti grazie a questo c'è stato quel finale, quel colpo di scena che molti non sapevano. Stato di Vrex, Vrex toto! Vrex è sopravvissuto lo scontro su Virmire, intasca tutti quelli che pensano che Vrex deva morire per forza su Virmire. Poi disperso, sì vabbè Kaidan Alenco è stato ucciso su Virmire e nessuno lo ha pianto. Storia del consiglio, stava per attaccare, la è che o salvavo il consiglio o salvavo la cittadella impedendo ai razziatori di entrare nella Via Lattea, però così facendo il consiglio è stato sacrificato. Continua. Shepard ha agito alla perfezione, meglio di quanto sperassimo. Salvare la cittadella ma sacrificare il consiglio. Il ruolo dell'umanità nella galassia è più forte che mai, ma non è ancora abbastanza. Anche se gli umani controllano il consiglio e Shepard è la nostra speranza. E ora vogliono mandarlo a combattere i Geth. I Geth. Sappiamo che non sono loro la vera minaccia. I razziatori sono ancora là fuori. Aspetta a noi fermarli. Il consiglio non si fiderà mai, non accetteranno il nostro aiuto, neanche dopo tutto quello che l'umanità ha fatto per loro. Ma Shepard, a lui daranno ascolta. È un eroe, una specie di icona. Ma è solo un uomo. Se perdiamo Shepard sarà la fine anche per l'umanità. Allora facciamo in modo di non perderlo. Comunque ragazzi, per essere un gioco del 2010 fa ancora la sua porca figura, eh. Motori per luce disattivati. Rilascio emissioni attivo. La zona è pulita. Procediamo con l'occultamento. Stiamo sprecando tempo. Quattro giorni a cercare per tutto il settore e non abbiamo trovato traccia di attività, Gett. Nell'ultimo mese sono scomparse tre navi qui. Deve essere successo qualcosa. Io punterai sugli schiavisti. I sistemi Terminus ne sono pieni. Rilevo qualcosa sullo scanner a lungo raggio. Una nave non identificata. Sembrerebbe un incrociatore. Non corrisponde a rilevamenti conosciuti. L'incrociatore sta cambiando rotta. Ora è in traiettoria di intercettazione. Non può essere. I sistemi di occultamento sono attivi. È impossibile che una nave Gett... Non sono i Gett. Prepararsi a manovre evasive. Presley! Mariere genetiche giù! Palle nello scafo! Armi fuori uso! Spegnete l'incendio! Shepard! Poavi soccorso pronta all'angelo. L'alleanza arriverà in tempo. Non sto facendo tutto questo solo per diventare cadaveri spaziali. Porta tutti alle navette d'emergenza. Joker è ancora in cammino. Non vuole andare. E anche io non me ne vado. Tu guida l'equipaggio allenamenti di evacuazione. Penserò io al Joker. Shepard! Liara, va! Subito! Sì, signore. Tutti dentro! Forza! 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 Tutto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di qua c'era l'infermeria, non ho idea di dove siano le capsule di salvataggio, cioè l'ingresso. Boh, vabbè. Questa era una delle parti più immersive in assoluto di quando uscì il secondo capitolo. Praticamente ripercorri tutta la nave che hai visitato centimetro per centimetro nel primo gioco e la vedi in queste condizioni. Sto cercando di rimedesimarmi in quelle sensazioni. Dobbiamo andare da Joker che ha messo questo campo di forza per non essere risucchiato fuori, nello spazio. Forza Joker! Dobbiamo andarcene di qui! No, non abbandonerò la Normandy! Posso ancora salvarla! La Normandy è perduta. Affondare con la nave non cambierà le cose. Sì, d'accordo, aiutami a rialzarmi. Sto portando per un altro attacco. Sto portando per un altro attacco. Sei, dai, ti ho un bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E se non ricordo male, questa era la parte in cui potevamo modificare i caratteri del personaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il volto è importato... No, facciamo anche Shepard e si risveglia con un'altra faccia. Tipo... Guarda, eh. Siccome se io faccio aspetto personalizzato, il volto cambia. Questo è il volto suo che avevo anche nella precedente avventura. Aspetto personalizzato. Seleziona. Ecco, vai, perfetto. Facciamo che lui quando si risveglia è un cinese. Ti immagini che trauma? No, vabbè. Scherzi a parte. Lasciamolo con la faccia sua. Accetta volto importato. Allora, classi. Come dicevo, avevo scelto la classe soldato perché abbracciava praticamente tutte le armi. Se tu usavi un'altra classe, tipo, non eri addestrato l'uso del fucile, potevi usarlo ma eri molto più spreciso. E insomma, un sacco di cose che mi stavano un po' antipatiche. Mentre invece ho notato che molte cose sono state migliorate per l'appunto, ovviamente, del secondo capitolo. E ho notato che se io faccio diventare uno Shepard biotico, è veramente disastroso. Disastroso nel senso che fa danni, fa un botto di danni. A questo giro Shepard sarà un ricognitore. E come potere aggiuntivo Munizioni perforanti mi sono utili contro i Get. E le macchine in generale. Barriera, schianto, fortificazione, potenziamento scuto Get. Assurimento energetico. No, saccheggioni anche. Shock neurale, munizioni tirampenti, deformanti. Vabbè, considerando che poi, avendo abbastanza punti, posso poi modificarlo anche dopo. Il potere aggiuntivo. Per il momento tengo munizioni perforanti, perché se non ricordo male, all'inizio ci dovremmo scontrare con diversi Mac. Anche se di base dovrei avere i colpi quelli elettrici, che sono più... Ok, certo, sono più indicati per i Mac. Allora, conferma. Fete pazienza, perché anche se non sembra, sono passati diversi anni da quando non ci ho messo mano sul secondo capitolo. Reagisce agli stimoli esterni, mostra consapevolezza dell'ambiente circostante. Per gli dai, Miranda, credo si stia svegliando. Dannazione, Wilson, non è ancora a punto. Dagli un sedativo. Shepard, cerca di non muoverti. Resta immobile. Cerca di calmarti. Battito cardiaco in aumento. Attività cerebrale fuori scala. Parametri a livelli critici, non sta funzionando. Un'altra dose, subito. Battito in diminuzione, parametri rientrati nella normalità. È mancato poco, lo abbiamo quasi perso. L'avevo detto che i testi non erano sbagliati. Rifai tutti i calcoli. Sveglia, comandante. Shepard, mi senti? Alzati subito da quel letto. Questa struttura è sotto attacco. Shepard, le tue cicatrici non sono guarite, ma devi sbrigarti. Questa struttura è sotto attacco. Ed eccoci qua, di nuovo in piedi. Allora. Ah, posso già... Posso già mettere il primo punto abilità. Munizioni incendiarie. Carica. Supremazione offensiva. Ti rende più veloce. Feroce e potente sul campo di battaglia. Assolutamente acquista grado. Acquista di tutti. Vabbè. 94 rinnegato. Cioè... No, aspetta. Cos'è successo? Perché 94 rinnegato? 140 eroe. Ah, forse ha preso i punti della vecchia partita. Non ho ancora fatto niente, ma ha già dato 94 punti rinnegato. Fregniamo. Sta a spuffare. La corazza li si imbaternizza addosso. Ti procureremo delle munizioni dal... Merda. I contenitori vicino alla porta stanno per esplodere. Mettiti subito a tieni giù la testa. Riparti dell'esplosione. Posso... Ma è un bug. Perché guarda, le munizioni ce le ho già. Due secondi prima ha detto che era scarica la pistola. Non so se è un bug, ragazzi. Come R ricarica? Guarda, ma è carica la pistola. Ragazzi, partiamo col botto. Un primo bug. Non posso ricaricare la pistola perché al massimo non posso proseguire se non ricarico la pistola. Quindi devo fare così. Boh. Vabbè. Ok. Al contrario dell'episodio precedente che non si poteva scattare, non si potevano fare un sacco di cose. Né tanto almeno mettersi dietro di pari in questo modo. No, cos'è? Ah, sì, c'è già. No. Inmettiti. Allora, vediamo un attimo i miei poteri. Munizioni perforanti, munizioni incendiarie. No, perforanti. E ce l'ho anche lassù. In alto, a sinistra. Borda. Fa malissimo che la mossa è lì. Però ho come l'impressione che scatti un po'. Allora, opzioni. A video. Ho abbassato la luminosità ambientale perché altrimenti scattava un po' troppo con la registrazione. Shepard, i mech della sicurezza si stanno a correre rischi. Resta a coperto ed elimina quei mech. Non aggancio il bersaglio. Aspettiamo che si ricarichi lo scudo e poi borda. Ah, e poi... No. Ah, ahia. Vero, esplodono questi qua. Ok. Ma se ci vai con la pistolina è ovvio che muori. Vabbè. Come andare contro un Terminator con uno sul cicadenti. Vabbè. Ah, sì, ok. In questo gioco, nel secondo capitolo, si possono equipaggiare le armi pesanti che si materializzeranno sulla schiena. Per eliminarli. Ah, è vero, devo sparare a cosa? Ah, sì. E questo lancia granate, oltre a essere... Balla finita, Miranda, lo so dove devo andare. Dicevo, questo lancia granate, oltre a essere molto forte, le granate sono a ricerca. Sbrigati, raggiungi la porta, corri. E Mass Effect insegna che se tu non vuoi essere bruciato vivo da una fiammata... Secondo bug! Avevo sparato una granata, ho premuto R per ricaricarla e è venuto il 10. Dicevo, Mass Effect insegna che se non vuoi essere bruciato vivo da una fiammata ci devi correre in mezzo. Vabbè, lasciate perdere i miei gommi, io adoro questo gioco, però... È fantastico, questo. Ok. Questi dove vanno non l'ho mai capito, cioè... Andavano verso il muro. Allora, anche se stiamo scappando da Cerberus, nel secondo capitolo sono stati introdotti questi... Questi oggetti da decriptare, ad esempio, cassaforte e parete. In questo caso dobbiamo fare il gioco delle coppie... Prima che scada il tempo, per ottenere i materiali, ovviamente. Allora, questo va qua, poi cintura, con la cintura, e aggeggio con l'altro aggeggio... Ok, esci. Ecco, per avere crediti. E ci sono qua i registri che fanno parte della storia, ve lo spiego io praticamente. Ci sono dei registri che appunto narrano le varie vicende del progetto Lazarus, ovvero il progetto che vede Shepard sul tavolo operatorio nel tentativo di farlo riprendere. Beh, una madonna. A un metro è usato il lanciarazzi. Proprio della serie... Non lo so, una serie diventatevela voi. E niente, praticamente Shepard è morto, però hanno ricostruito il corpo prendendo le sue cellule, praticamente. Hanno... come posso dire, hanno clonato il corpo. Non hanno clonato Shepard, nel senso, la memoria, i ricordi, la coscienza di Shepard è rimasta intatta. Però semplicemente hanno ricostruito il suo corpo utilizzando il suo materiale genetico. Ok. No, 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 ti ho capito male. Senti, però... Cosa ci fai qui? Pensavo che con te non avessero ancora finito. Nemmeno tu. Mi sono appena risvegliato. Tu devi sapere più cose di me. Giusto, mi dispiace. Io sono Jacob Taylor. Sono a distanza qui da... Nemici individuati. Merda! La situazione è peggiore del previsto se Miranda ha già deciso di metterti in campo. Ti dirò tutto, ma prima dobbiamo arrivare alle navette. So che non è il momento migliore, ma sono stufo di correre a destra e a manca senza sapere nulla. D'accordo, ti faccio un riassunto. Due lato nave siete stati attaccati e distrutti. Sei stato ucciso. Poi il tuo cadavere è stato portato qui. I nostri scienziati ci hanno messo due anni a rimetterti insieme. Sei rimasto in coma o peggio per tutto questo tempo. Bentornato alla tua vita. Io... Non credo di avere afferrato molto bene la situazione. Sì, lo immagino. L'Alleanza ti ho ufficialmente dichiarato caduto in battaglia. L'intera galassia ti ritiene morto. E se non raggiungeremo quelle navette, tornerai a esserlo. Ti sono salvati altri membri dell'equipaggio della Normale? Facciamo così. Aiutami a distruggere quei me che risponderò a tutte le tue domande, o quasi. Siamo a corto di clip termiche, ma io sono un biotico. Se vuoi che li colpisca duro, basta che me lo dici. Quindi abbiamo già avuto un piccolo accenno del fatto che siamo stati dichiarati morti e l'Alleanza ci ha mandato a quel paese. Sì. Porca miseria. Ok. Ok. Avevo promesso di rispondere alle tue domande. Cosa vuoi sapere? Sai qualcosa su questo attacco? Chi c'è dietro? E cosa vogliono? Magari lo sapessi. Stavo andando a dormire quando è scoppiato l'inferno. Un sacco di esplosioni. Poi ogni dannato mech di questo posto ha iniziato a sparare. Contro di noi. Deve essere stato qualcuno dei nostri. Serve un livello di autorizzazione massimo per violare tutti i mech. Allora, si stava dicendo dell'equipaggio della Normandy. L'ultima cosa che ricordo è l'esplosione della Normandy. Ci sono stati altri superstiti? Più o meno tutti. Solo pochi soldati dei ponti inferiori non ce l'hanno fatta. Il navigatore Presley è stato ucciso da un'esplosione. Ma tutti gli altri, incluso il personale non dell'Alleanza, come Liara, la Zari e l'Aquarian, ne sono usciti sani e salvi. E dove sono? Sai per caso che fine hanno fatto? No, comandante. Sono passati due anni. Hanno voltato pagina e lasciato l'Alleanza. Potrebbero essere ovunque. Era la mia squadra. Se sapessero che sono ancora in vita, verrebbero a cercarmi. Forse potrei rintracciarli dopo che ce ne saremo andati da qui. Sempre se ci riusciamo. Ci hanno messo due anni per ricostruirmi. Le mie ferite erano così gravi. Non sono un medico, ma hai rimesso male. Quando ti ho visto eri solo un ammasso di carne e tubi. Altrove sareste finito direttamente in una bara. Ma il progetto Lazarus era diverso. Tecnologia all'avanguardia. In che senso? Clonazione? Cibernetica? Non conosco i dettagli. Dovresti chiederlo agli scienziati. Ma sono sicuro che non sei un clone. È quello che dicevo io prima. Voglio portarti in vita esattamente come eri prima di quell'attacco. Sei ancora tu. Magari con qualche pezzo in più. Perché un clone praticamente, se tu cloni anche il cervello, è un cervello basato sui ricordi e esperienze che ha avuto il soggetto originale. Quindi non è esattamente il soggetto originale. È una copia. Ok? Però se tu hai la tua coscienza originale... Cioè, come dire, se perdi un braccio, viene usato il tuo materiale genetico per ricostruirlo. Non sei un clone, però hai un braccio ricostruito. Però tu, clone, non lo sei. Non so se mi sono spiegato. Tecnologia... Progetto Lazarus. E poi proseguiamo. C'erano altri soggetti oltre a me. Il progetto Lazarus aveva un solo soggetto. Tutta l'operazione consisteva nel riportare in vita te. Solo te. Ma non è stato facile. Due anni. I migliori scienziati in circolazione. Le tecnologie più avanzate. Qual è la via più rapida per raggiungere le navette? Dipende tutto dalla quantità di meche. Forse è meglio passare... Prova! Prova! C'è qualcuno in ascolto! Qualcuno ancora in vita! Pronto! Wilson, sono Jacob. Sono qui con il comandante Shepard. Ho appena distrutto un gruppo di mech nel settore D. Shepard è vivo. Ma come diavolo... Non importa. Devi tirarlo fuori da lì. Usa i tunnel di servizio e raggiungi la sala di controllo della rete. Ricevuto, Wilson. Resta su questa frequenza. Credo di ricordare un certo Wilson che era venuto a trovarmi al mio risveglio. È lui. È il capo dei tecnici medici. Obedisce direttamente a Miranda. Forza! I tunnel di servizio sono da questa parte. Ok. Ah, andiamo. Allora. Quattro. Squadra. Posso già settare i punti? Sì. Agente di Cerberus. Ecco, e già da qui se uno non sa che è di Cerberus basta andare nel menu e te lo spoilera. A qui sagrado. Vabbè. Ovviamente io già lo sapevo. Ma farò finta... Oddio! È un Cerberus! Farò finta di non sapere niente. Andiamo. Perché a differenza della maggior parte dei giochi FPS, la corsa non è shift ma è spazio in tutti e tre Mass Effect. Cioè, nel secondo e nel primo non c'è lo scatto. Un po' meglio c'è ma soltanto in certe circostanze. Siamo stati individuati. Io entro tra le porte alleate. Quante è la stazione prurica di Mech? Sto facendo del mio meglio. ...valli di sistema. Ok. Continuate a dirigervi verso la sala di controllo. Non fatevi bloccare. Oh no! Mi hanno trovato! Aiuto! Questo? Dove sei? C'è la server B! Sono fuori! Sono fuori! Sono solo fuori! Allora... Ecco, ascoltate questa. ...vallutare tutte le funzioni mentali e neurologiche. I nostri ordini erano chiari. Rendere il comandante Shepard ciò che era prima dell'esplosione. La stessa mente. La stessa morale. La stessa personalità. Se altereremo in qualche modo la sua identità, se non sarà più l'uomo di un tempo, il progetto Lazarus avrà fallito. Non lascerò che ciò accada. In uno di questi registri, Miranda dice che l'attività celebrale di Shepard è cessata a causa della prolungata permanenza nello spazio. E poi dice, però Wilson mi assicura che il progetto Lazarus andrà avanti e Shepard avrà riportato in vita. Ovviamente è un'opera di fantasia, quindi Bioware non è stata troppo nel dettaglio su come riattivare un cervello che è stato avvagare nello spazio sia possibile. Però è così. Non è la realtà, è un gioco, dai. Ecco, una cosa che io non ho mai capito del secondo capitolo è come viene settata, cioè come viene calcolata la moralità. Sì, sto parlando. Non ho capito come viene calcolata la moralità perché se rispondo male ottengo tipo 3 punti rinnegato e 6 punti eroe. Boh. Poi vedrete, ci sono delle situazioni. Allora... Premi maiuscolo. Ok, questa nel primo era coesione. Infatti qui non ci possiamo curare noi direttamente basta aspettare che si carichi lo scudo e si ricarica anche la salute ma per rianimare i compagni c'è il tasto c'è l'abilità coesione che cura i nemici a distanza. I nemici, sì. Gli alleati. Shepard, non avrei mai pensato che mi avresti salvato la vita. Ora siamo pari. Volevo provare a disattivare i MEC di sicurezza ma il responsabile di tutto questo ha fritto l'intero sistema. Ormai è irreversibile. Non ti abbiamo chiesto cosa stavi facendo. Comunque, perché puoi accedere ai MEC di sicurezza? Tu eri nel settore biologico. Non mi stavi ascoltando. Sono venuto qui per risolvere il problema. Inoltre, mi hanno sparato. Questo come lo spieghi? Non conosco nessuno di voi. Mettiamoci al sicuro e poi potremo stabilire di chi è la colpa. Giusto, Shepard. Dobbiamo cercare Miranda. Non possiamo lasciarla qui. Lascia perdere Miranda. Era nel settore D. I MEC hanno invaso tutta quella zona. Impossibile che sia sopravvissuta. Miranda non può farsi uccidere da qualche MEC. È ancora viva. E allora dov'è? Perché non ci ha contattati? Le spiegazioni possono essere solo due. O è morta, oppure è una traditrice. Di solito mi serve più tempo per fidarmi delle persone. Miranda teneva molto a questo progetto. Non l'avrebbe mai sabotato. Ok, forse non è colpa sua. Ma questo non cambia la situazione. Noi siamo qui e lei no. Dobbiamo salvarci. L'hangar delle navette è... Oh, merda! Possiamo sovraccaricare quei... Sì. Allora, sovraccarica. Ecco fatto. Ok. Andiamo. Ok, li abbiamo sistemati, ma per noi si mette male. Shepard, se ti dico per chi lavoriamo, ti fidi di me. Non mi sembra proprio il momento, Jacob. Non ce la faremo se lui si aspetta un colpo alla schiena. Se vuoi fare incazzare il capo, Jacob, accomodati pure. Il progetto Lazarus, il programma che ti ha ricostruita, è finanziato e controllato da Cerberus. Cerberus? Mi suona familiare. Non l'ho fatta quella quesia secondaria, ma nel primo capitolo c'era una quesia secondaria in cui andando su diversi pianeti si trovavano dei centri di ricerca gestiti da Cerberus, dove al centro di questi centri di ricerca c'erano delle celle con dei campi di forza e dentro c'erano tipo dei mutanti, delle bestie, insomma stavano facendo anche degli esperimenti. Tutto poi ha un collegamento con l'uomo misterioso e perché l'uomo misterioso è così interessato ai razziatori, che lo vedremo man mano nel gioco. Per questo vengono poi definiti i pro umani perché l'uomo misterioso cerca di studiare tutte queste caratteristiche per promuovere la razza umana e quindi a suo modo cerca di elevare la razza umana di sopra tutti gli altri, anche un po' il complesso del dio. Comunque, torniamo a noi. Mi suona una familiare. Mi pare di essermi già imbattuto in Cerberus qualche volta mentre indagavo su Saren. È una sorta di gruppo illegale pro umani, vero? Beh, questo è ciò che vuole far credere l'alleanza, ma c'è dell'altro. L'alleanza ti aveva dichiarato morto. Si erano arresi. Cerberus ha speso una fortuna per riportarti in vita. Anch'io sarei sospettoso, ma al momento dobbiamo collaborare per sopravvivere. Ho solo pensato che meritassi di sapere tutto. Una volta lasciata la stazione, ti porterò dall'uomo misterioso. Lui ti spiegherà tutto. Te lo prometto. Non lavorerò mai per Cerberus. Non mi importa cosa abbiano fatto o cosa tu dica. Non lavorerò con dei terroristi. Potrei dirlo al capo, ma dopo che saremo al sicuro. Siamo quasi alla navetta. Ok, andiamo. No, due rinnegato. E quattro eroe. Ma lo vedi? Perché mi ha dato i punti eroe? Ho detto, non lavorerò con dei terroristi. E mi dà i punti eroe. Vabbè. Oltre alla cassaforte di prima che c'è da fare il gioco delle coppie, ci sono anche questi datapad da raccogliere, da decriptare. Decriptazione è molto facile. Dobbiamo trovare l'immagine che sta in alto e selezionare la copia che... in questa lista che scorre. Allora, i trattini verdi. Trattini verdi. No. No. Prima che scada il tempo. Ovviamente l'ho fatta. Mi dovrebbe dare anche un po' di esperienza? 900 crediti? No. Solo crediti. In questo caso. Vai, proseguiamo. No, è vero. Allora, in teoria potrei anche gettarmi... Potrei anche gettarmi... No, non hai capito. Questo lo voglio... Ma che c'è? No. Questo! Non ho capito perché mi seleziona questo invece che questo. Oh, alleluia. Questo me lo metti lì. Però questo me lo metti lì. Ci siamo? Ti torna? E questo me lo metti lì. Anzi, me lo metti sul 5. Dicevo, potrei schiantarmi su di loro, però se poi mi spuntano dei nemici alle spalle... È un suicidio. Siamo stati individuati. Ok. Dovremmo esserci. Allora, guarda, io adesso premo R per ricaricare. Non ho le clip per ricaricarlo. Tac! Magia. Viola datapad. Avvia. Violiamo il datapad. Eccolo qui. E... Con l'arancione in fondo. Tutto verde con l'arancione in fondo. Eccolo qua. No, bestia. Tutto verde con l'arancione in fondo, ho detto. Eccolo qua. Cintura a cintura. C con la C. Pistone col pistone. Cactus col cactus. E porta con la porta. Ok. Il soggetto sperimentale è stato recuperato. Ma i danni sono ben peggiori di quanto temessimo. Oltre alle preventivate ustioni e ferite interne causate dall'esplosione, il soggetto ha subito un significativo collasso cellulare in seguito alla lunga esposizione al vuoto e alle temperature sotto zero. Nonostante il vasto trauma fisico, Wilson mi assicura che il soggetto è recuperabile. Il progetto Lazarus procederà come previsto. Ovviamente per rendere credibile questa parte l'hanno infoltita con dettagli per renderlo appunto vero, simile. Però ad un certo punto tutto ha un limite. Nella realtà non sarebbe possibile una cosa del genere. Coraggio, da questa parte. Siamo quasi al... Miranda? Ma tu arrivi... Morta? Che diavolo stai facendo? È il mio lavoro. Wilson ci aveva traditi tutti. Avresti dovuto prenderlo vivo, scoprire cosa sapeva. Troppo rischioso. Ho speso troppo tempo e fatica per riportarti in vita, per vederti uccidere proprio ora. Credi davvero che Wilson ne fosse capace? Ora non più. Anche se ne sei sicura, lui si meritava quell'accoglienza. Ha sabotato i sistemi di sicurezza, ucciso il mio staff e avrebbe ucciso anche noi. Ne sei sicura, Miranda? Conoscevamo Wilson da anni. E se ti sbagliassi? Io non sbaglio mai. Pensavo che ormai l'avessi capito, Jacob. Se lo dici tu. E ora cosa facciamo? Saliamo sulla navetta e ce ne andiamo. Il mio capo vuole parlarti. Intendi l'uomo misterioso? So che lavorate per Cerberus. Ah, Jacob. Avrei dovuto immaginarlo che ti saresti fatto degli scrupoli. Non è mentendo al comandante che lo cominceremo a unirsi alla nostra causa. Beh, visto che siamo in vena di confessioni, c'è qualcos'altro che vuoi chiedermi prima di andare, comandante? Sei la direttrice del progetto Lazarus, non è vero? Esatto. Ho dedicato due anni della mia vita a questo progetto. A te. Che cosa vuole Cerberus da me? Forse dovresti chiederlo all'uomo misterioso quando lo incontrerai. Ha dedicato risorse praticamente illimitate a Lazarus. Ovviamente ha in serbo qualche piano per te. Non voglio rivedere questa stazione per il resto della mia vita. Ho delle tue vite, nel tuo caso. Andiamo. Prima dell'incontro con l'uomo misterioso, dobbiamo farti alcune domande per valutare le tue condizioni. Andiamo, Miranda, altri test. Shepard ha già abbattuto quei mech senza problemi. Dovrebbe essere sufficiente. Sono passati due anni dall'attacco. L'uomo misterioso deve essere certo che la personalità e i ricordi di Shepard siano integri. Procedi con le domande. Hai detto due anni. Sono rimasto inerte così a lungo. Due anni e dodici giorni. E ne hai trascorso la maggior parte su un tavolo operatorio. Prima iniziamo, prima potremo finire. Inizia con la sua storia personale. D'accordo. I registri indicano che eri un colono. Hai verso i genitori quando gli schiavisti hanno assaltato Mindoir. Ti sei arruolato e sei sopravvissuto all'attacco del divoratore che ha spazzato via il resto della tua squadra. Te lo ricordi? Quel giorno ho perso parecchi amici. Vivere un'esperienza simile ti cambia. Se glielo permetti, finisce per soffocarti. Ho letto il rapporto. Su accuse sono morti 50 marine. Sei stato l'unico sopravvissuto. Questo è praticamente una specie di riepilogo del background di Shepard che appunto avevo scelto all'inizio del primo Mass Effect. Hai dovuto lasciare indietro a morire un membro della tua squadra. Kaidan Alenco. Il giudice di Kaidan Alenco è caduto in battaglia. È stata una tua decisione. Perché l'hai lasciato indietro? Era una questione di vita e di morte. È stata una scelta difficile. Oddio. In realtà non tanto, però. Avere il comando significa dover dare ordini sapendo che i tuoi uomini potrebbero morire. Ciò non deve influenzare le tue decisioni. Kaidan si è sacrificato per il resto della squadra. Senza di lui non avremmo potuto fermare Saren. È morto da eroe. Capisco comandante. Non stavo giudicando la tua decisione. Tutti qui a Cerberus sanno che quell'impianto di clonazione doveva essere distrutto. Shepard, ripensa alla cittadella. Dopo la morte del Consiglio nella Destiny Ascension e l'uccisione di Saren, cos'è successo dopo? Beh, tecnicamente Saren si è sparato da solo. Si è suicidato. L'ho portato io al suicidio. Quindi non è che l'ho ammazzato io. Si è ammazzato da solo. Comunque. Oddio, chi avevo scelto alla fine? Non me lo ricordo. Considerando che io, conoscendomi, ho sempre detestato Udinau. Anderson. Con il Consiglio morto, l'umanità ha conquistato il potere. Abbiamo formato un nuovo Consiglio e io ho suggerito che lo guidasse il Capitano Anderson. Sì, il Capitano Anderson è ora il Consigliere Anderson. Anche se da quanto ho sentito preferiva la vita militare. Tuttavia è bello sapere che il membro umano del Consiglio non penserà alla politica prima della difesa. I tuoi ricordi sembrano stabili. Ci sono altri test che dovremmo eseguire. Avanti, Miranda. Basta con i quiz. I ricordi sono a posto e posso garantire personalmente per le abilità belliche di Shepard. Immagino tu abbia ragione. Dobbiamo solo sperare che l'uomo misterioso consideri il nostro piccolo test improvvisato una prova sufficiente. Ebbene ragazzi, io penso che per il primo episodio non è successo granché. Non è successo granché nel primo episodio. Ti attende nell'altra stanza. Sì, grazie Miranda. Come introduzione direi che ci sta. Abbiamo sparato qualcosa. Abbiamo avuto il nostro background, sia il riepilogo del background di Shepard, sia un accenno di quello che è successo in questi due anni. Nel prossimo episodio andremo a parlare con l'uomo misterioso, colui che manovra i fili di questa intricata società di Cerberus. E andremo a vedere cosa diavolo vuole da noi. Per il momento è tutto ragazzi. Noi ci vediamo ogni lunedì, fino a quando Mass Effect 2 non è finito. Ogni lunedì alle 2.30, massimo 2.45. Quindi appuntamento alla prossima puntata. Non mancate. E vi ricordo che il bidone dell'umido ricomincerà e infatti uscirà questa settimana un nuovo episodio della nuova stagione del bidone dell'umido stagione 2. Detto questo ragazzi noi ci salutiamo e ci becchiamo al prossimo episodio.